Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale la partenza di ieri sera tra Milan e Napoli ha visto appunto i rossoneri vincere per 2-0 grazie alla doppietta del pam pam pistolero Christoph Spiontek un giocatore che devo essere sincero all'inizio di questo campionato neppure conoscevo il Genoa ha fatto il colpaccio, è riuscito a prendere questo calciatore e a valorizzarlo è praticamente esploso nel nostro campionato e così facendo ragazzi il Milan è riuscito ad acquistarlo per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più bonus per sostituire Gonzalo Higuain ma queste sono cose che noi sappiamo già dov'è quindi che ho sbagliato come ho detto nel titolo? ho sbagliato perché devo essere sincero ragazzi con voi, io sono sincero l'ho anche detto all'inizio quando c'era questa voce del possibile acquisto di Piontek ho sbagliato perché io pensavo che Piontek si potesse fare bene a Milano eccetera ma non credevo che invece potesse essere così determinante per questo Milan mi spiego, mi vado a spiegare Piontek è un cecchino, Piontek è veramente un giocatore, un animale dal punto di vista offensivo è veramente un animale da gol i due gol che ha fatto ieri dimostrano quanto nel Milan operaio di Gattuso in un Milan che è diciamo molto più contropiedistico, catenacciaro cerca sempre il contropiede più che la giocata dei singoli cerca moltissimo il lancio lungo un giocatore come Piontek che ha bisogno veramente di toccare la palla 3-4 volte per poterla buttare dentro e cazzo può essere veramente determinante può essere veramente determinante io ho sempre detto che il Milan avrebbe dovuto prendere magari più che un Piontek spendendo 40 milioni di euro doveva prendere un giocatore esperto un giocatore alla Giroud, alla Llorente che potesse far più che altro da chioccia a Cutrone sicuramente se dovesse esplodere Piontek, Cutrone farebbe fatica lo sappiamo, entrerebbe soltanto nei minuti finali magari ogni tanto potrebbe fare qualche partita da titolare ma comunque avrebbe sempre alle spalle un giocatore come Piontek che molto probabilmente ragazzi segnerà segnerà esattamente come segnato a Genoa se toccatevi ovviamente tifosi del Milan toccatevi qualsiasi cosa di ferro impossibile immaginabile però molto probabile che da quel che ha fatto vedere ieri segnerà e segnerà tanto e il punto Cutrone ragazzi potrebbe molto probabilmente non dico perdersi però potrebbe far fatica a venire fuori ecco un giocatore che comunque in questo momento è il capocannoniere del Milan ha segnato molto e ha trascinato i rossoneri in questa prima parte della stagione è un Milan diverso quello che abbiamo visto nella partita contro la Juventus in Supercoppa italiana e nelle due partite contro il Napoli perché è un Milan molto più attento alla fase difensiva e che cerca appunto di partire in contropiede spesso con lanci lunghi con un paquetà che sicuramente ragazzi ha dato qualcosa in più al centrocampo del Milan che mancava dal punto di vista tecnico dal punto di vista anche del servire il compagno col passaggio giusto ottimo il suo passaggio per il secondo gol di Piontek tra l'altro ragazzi il secondo gol di Piontek è un capolavoro veramente un capolavoro quel gol perché da attaccante puro, da attaccante animale da attaccante che non gli interessa nulla di cosa c'è attorno lui vede la porta e raga deve tirare e far gol veramente mostruoso mi ha impressionato e ragazzi io appunto vi devo chiedere scusa perché non pensavo assolutamente che Piontek in realtà i ragazzi in questo Milan può essere decisivissimo certo Cutrones potrebbe perdersi spero per lui di no però ragazzi al Milan effettivamente si serviva un giocatore così mostruoso perché adesso se con Cutrone il Milan era sicuramente forte secondo me con un Piontek e con questa mentalità operaia di questo Milan è molto probabilmente ragazzi adesso il Milan diventa una squadra molto molto tosta e che potrebbe puntare effettivamente al quarto posto vedremo che cosa succederà il Napoli il Napoli invece ragazzi ieri mi ha deluso mi ha deluso tanto perché parliamoci chiaro cioè De Laurenti si ha sostituito uno come Sarri per Ancelotti per poter puntare ad altro per poter puntare non al campionato ma avere una mentalità più vincente verso Coppa Italia e Champions League o comunque Europa League e raga il campionato sta andando malissimo è secondo però comunque non sta andando bene perde punti a raffiga rispetto alla Juventus in Coppa Italia è stata eliminata subito contro il Milan ai quarti di finale in questo modo con questo 2-0 secco un 2-0 che non ti lascia a scampo eh cacchio raga si ridimensiona tantissimo no? la stagione del Napoli perché adesso ti resta soltanto l'Europa League perché dalla Champions sei volata fuori quando potevi con un po' più di accortezza potevi restare in Champions ora ti è rimasta solo l'Europa League e non puoi assolutamente permetterti di non arrivare in fondo non puoi non puoi altrimenti sarebbe una stagione fallimentare sarebbe una stagione esattamente come quelle di Sarri quindi questo cambiamento tra Sarri e Ancelotti non si vedrebbe spezzando la lancia a favore di Di Laurenti e di Ancelotti c'è da dire che però ragazzi questo Napoli io non lo so a me piace sotto tanti punti di vista a me piace però vedo che manca vedo che gli manca qualcosa secondo me gli mancano almeno due campioni cioè ha degli ottimi giocatori dei giocatori veramente forti che insieme vengono allenati in maniera eccelsa però ragazzi gli mancano quei due campioni gli manca l'attaccante da 30 gol gli manca assolutamente vedi un Cavani quello che era prima un Cavani, un Higuain gli manca quello e sono convinto che gli manchi anche un centrocampista centrale con i stragrandi controcoglioni sebbene comunque Allan lo sia però appunto gli manca quello che era una volta Amsic una volta Amsic lo era nel Napoli adesso non c'è più quella figura lì Amsic ormai si è perso molto probabilmente andrà via andrà in Cina gli manca un giocatore di quel tipo gli mancano questi due barra tre campioni al Napoli per poter almeno avvicinarsi a Juventus parliamoci chiaro ragazzi la Juventus è qui il Napoli e qui e tutto il resto delle altre squadre cioè sono qui qui le altre squadre il Napoli e la Juve cioè qui forse esce anche dalla telecamera troppo più forte delle altre Juventus è una delle 3, 4, 5 squadre più forti del mondo in questo momento il Napoli forse è una delle 20 delle 25 squadre più forti quindi la differenza è veramente troppa e per poterla colmare c'è bisogno di trovare campioni il Napoli ha bisogno di trovare campioni non gli basta semplicemente il campione in panchina come Ancelotti ha bisogno di campioni veri anche in campo fatemi sapere in un commento qui sotto voi cosa ne pensate ragazzi cosa avete visto diciamo dalla partita di ieri sera tra Milan e Napoli fatemelo sapere in un commento qui sotto mi raccomando scaricate OneFootball la migliore app in assoluto per quanto riguarda le news e le notizie sportive che trovate qui sotto in descrizione da poter scaricare grazie mille di aver visto questo video un saluto ciao da Papirus grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri